Ora faremo la canzone più difficile che sia mai stata creata. Naturalmente inesperto. State a vedere. Non mi troverete nessuna di così tanto difficile. Da nessuna parte. Soltanto qui. Il nostro chitarrista si prepara. Mentalmente. Anche un po' di paura perché non so cosa aspettarli. Ecco siamo a Gardaland. I fuochi della sera. E qui hanno fatto... Un palco abusivo. Sì! Sì! Incredibile! Perfetto perfetto! Sì! 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 Chi è il re? Sì